Quando mi ha invitato Armo Gida ho pensato il tema generale della traduzione e ho cercato di affrontare questo tema a partire da quello che mi interessa e a me interessa in particolare ultimamente negli ultimi anni tutto quello che possiamo dire non riusciamo, non abbiamo i mezzi per acchiappare, per afferrare per mettere in forma, per dire, quindi appunto tutto quello che è intraducibile mi interessa, ammesso che si dia qualche cosa che abbia queste caratteristiche quello che in particolare di noi, di noi umani, risulta, mettiamola così, con un'espressione un po' colloquiale ma inacchiappabile dagli apparati categoriali con cui noi abbiamo a che fare con il mondo Ora naturalmente qui c'è una precisazione da fare Inacchiappabile in che senso? Uno può dire, beh, non lo puoi acchiappare, quindi inacchiappabile come intraducibile non lo puoi acchiappare perché non hai il mezzo giusto per acchiapparlo, per afferrarlo Questo cosa presuppone? Presuppone che ci sia qualcosa che andrebbe acchiappato ma non hai i mezzi per acchiapparlo Facciamo un esempio Prima che fossero possibili i viaggi all'interno del sistema planetario c'era la faccia nascosta della Luna che era inacchiappabile ma non per un problema di principio, soltanto perché non avevi un modo per fare il giro della Luna Dal momento in cui riesce a fare i giri della Luna, quel lato che è sempre nascosto rientra nell'acchiappabile Non è in questo senso che io intendo inacchiappabile È un'inacchiappabile di principio In linea di principio c'è qualche cosa che sfugge all'acchiappabilità Alla traducibilità Primo punto Messa in questi termini l'idea sarebbe che ciò che non viene acchiappato ciò che non può venire acchiappato, ciò che non può essere tradotto in un certo senso è prodotto dallo stesso tentativo di afferrarlo Non preesiste all'operazione di prenderlo ma è prodotto dall'operazione stessa di afferrarlo Vi faccio un esempio semplice per cominciare ad avvicinarci Immaginate che qui questa tavola di legno e io con una sega provo a dividerla a metà con una sega di quelle tradizionali Allora nel momento stesso in cui io provo a fare questa operazione produco della segatura Ecco, la segatura esiste perché esiste l'operazione di segare questa tavola Non esisteva prima la segatura La segatura è un prodotto dell'operazione di segare questa tavola Non esisteva in quanto segatura prima di questa operazione Quindi possiamo leggerlo, questo inacchiappabile, questo intraducibile non come qualcosa che i nostri sistemi di traduzione non riescono a tradurre ma qualcosa che i nostri sistemi di traduzione producono in quanto intraducibile Cioè l'intraducibile che mi interessa è quello prodotto dallo stesso tentativo di tradurre Quindi non è qualcosa che precede la traduzione ma qualcosa che la stessa traduzione ha messo a prodotto Faccio un altro esempio, questo più interno, è già più interessante Facciamo l'esempio del sogno Uno sogna Fa un sogno E ecco, l'idea mia è che Il sogno stesso, fratto lo dice anche Freud È un tentativo di traduzione Il sogno Non dico ancora il sogno raccontato Che è un'ulteriore traduzione Ma il sogno che semplicemente Ci rappresentiamo nella nostra testa Già quel sogno è una traduzione È un tentativo di traduzione Già quel sogno in un certo senso è una storia Ma allora quel sogno produce il suo intraducibile Produce il suo stesso scarto In questo senso il sogno, nonostante quello che pensino tante persone Non è qualcosa di nascosto, di privato Nel senso che solo io posso accedere a quel sogno Sì, in un certo senso è così In realtà però, se la vedete in questo modo Il sogno è un tentativo di mettere in ordine Qualche cosa che accade dentro la testa Ad esempio, noi ci costruiamo intorno a quel sogno Una serie di immagini Allora, la serie di immagini È già un tentativo di traduzione Ma allora vuol dire Che il materiale da cui è partito quel sogno Già in questa operazione viene perduto Io che cosa ho del sogno? Ho la resa visiva di quello che ho sognato Ma questa stessa resa visiva È già un risultato di un'operazione Non è il punto di partenza del processo di traduzione È già una prima messa in forma di quello che è successo Quindi il sogno stesso In quanto tentativo di traduzione Quello che mi succede nella testa Ammesso che sia nella testa che il sogno ha luogo È già un modo per acchiappare Che produce il suo resto Quello che il sogno stesso non ha messo in immagini Quello che lo stesso sogno non ha raccolto Porniamo poi che io il sogno lo racconti Lo racconta un amico Lo racconta un amico e dico Ho sognato questo e quest'altro È evidente, in questo caso ancora evidente Che la traduzione è un ulteriore modo Di rendere pensabile Comprensibile Traducibile Qualche cosa che è accaduto Lo stesso racconto scarta un sacco di elementi Questo è abbastanza evidente Ogni racconto di sogno È una selezione di quello che il sogno stesso ci racconta Ci mostra Allora Qual è il punto qui? Tradurre è un'attività Probabilmente L'animale umano è l'animale che cerca di tradurre In questo senso radicale Cioè di venire Di dare un senso Di organizzare l'esperienza Quest'operazione Produce qualche cosa di comprensibile Ad esempio i sogni ci possono raccontare Ma nel fatto stesso di raccontarlo Nel fatto stesso di sognarlo Produce uno scarto Ecco a me interessa quello scarto Quello scarto Che non è intraducibile Capite perché Non ho abbastanza mezzi per tradurli È lo scarto che è prodotto Dallo stesso tentativo di tradurre Quindi ogni tentativo di traduzione Non ne produrrà un altro scarto Non c'è un modo di arrivare A una traduzione perfetta Cristallina Che tolga ogni equivoco È la traduzione stessa Che produce la sua ambiguità Perché mi interessa questo? E poi cercherò di illustrare questa tesi Leggendovi due proposizioni Della prima parte delle ricerche filosofiche In cui questo tema viene affrontato Del modo in cui Wittgenstein affronta questo problema A me interessa questo nucleo Diciamo Questo resto Della traduzione Perché Come vi dicevo Negli ultimi anni Mi interessa sempre più Quello che resiste Alla traduzione Quello che non è traducibile E cos'è questo che non è traducibile? Attenzione Traduzione poi vuol dire Questo è un punto che forse Va detto varie volte Perché un po' È il problema in un certo senso L'operazione di traduzione Qualunque operazione di traduzione È un'operazione intersoggettiva Pensate al racconto del sogno Lo racconto a qualcun altro Che mi può capire Proprio perché condividiamo La stessa lingua Questo vale anche per il sogno Puramente visivo Le immagini attraverso cui Traduco il contenuto Quello che Freud chiama Il contenuto onirico Quelle immagini Vengono dalla mia esperienza Da quello che ho visto Dai film che ho visto Da quello che ho visto nella vita Qualche cosa Anche in quel caso Di intersoggettivo Anche se sta qua dentro È intersoggettivo E la prova l'abbiamo Possiamo raccontare i sogni Il fatto che possiamo raccontare i sogni Una cosa ci dice Che il sogno Non è privato È individuale Ma non è privato Per definizione Possiamo dire Che tutta la vita psichica È interna Ma non è privata Perché Quando io cerco di capire Quello che è successo Nella mia testa Cerco ad esempio Mi figuro il sogno Come faccio a fare Quest'operazione Cerco di tradurlo Cerco di tradurlo Visivamente Ad esempio Ma queste immagini Che uso per tradurre Il contenuto onirico In un sogno In un sogno che vedo Sono immagini Che prendo dalla mia esperienza L'esperienza intersoggettiva Allora Magari non lo racconto a nessuno Ma anche io stesso Uso mezzi intersoggettivi Per fare questa operazione Anche per me Vale l'intraducibilità Vale per me Come vale per chiunque altro Il fatto che io possa raccontare Un sogno a qualcun altro Presuppone un fatto fondamentale Che lo posso raccontare a me stesso E io posso raccontarlo a me stesso Solo perché posso raccontarlo a qualcun altro Cosa voglio dire Facciamo un esempio diverso Immaginate Non si sa bene Se gli animali non umani Sognino Nel senso in cui Valgono I sogni per noi Poniamo che Nella testa loro Succeda qualche cosa del genere Come a quello che accade nella nostra Che ci siano delle immagini Cosa del genere Quello è un sogno privato Nel senso radicale Il cane che sogna Poniamo che i cani sogna No Dicono i cani I gatti Non so se avete visto Qualche volta Sembra che un gatto sogna Mentre dorme Mi agola Muova le zampe Come se si Se li vedete Li mettete degli elettrodi nel cervello Ha uno schema di attivazione neuronale Che è simile a quello che abbiamo noi Quando ci diciamo Che stiamo sognando Poniamo che succede la stessa cosa Che succede a noi Quando sogniamo Tuttavia Il gatto non può raccontare il sogno E questo è un punto decisivo Il gatto possiamo dire Quasi potremmo usarla come definizione È un gatto Chiunque sia incapace di raccontare un sogno Ma se non sa raccontare un sogno a un altro Non sa raccontarlo nemmeno a se stesso Quindi quello del gatto Se è un sogno È un sogno Assolutamente privato Allora qui l'importante è Capire cosa si intende per privato Privato vuol dire Veramente privato Nessuno può accedere A quel contenuto E qui è il nessuno che conta Nessuno Compresa la persona Che ha fatto quel sogno In effetti Una cosa interessante del sogno È il suo carattere di È sempre stato così Il sogno è qualcosa di perturbante Accade qua dentro Ma non è chiaro Chi sogna il sogno Il sogno accade Oggettivamente è qualcosa Di stranamente impersonale Perché mi interessa Questo elemento Perché per come vi ho detto Se traduzione Ogni operazione di traduzione È un'operazione intersoggettiva E se quindi io per tradurre Quello che mi succede nella testa Devo usare ad esempio delle immagini Quelle immagini non le ho inventate io Quelle immagini le ho prese Dalla mia esperienza intersoggettiva Oppure poniamo che io racconti un sogno Le parole con cui racconto un sogno Sono parole che trovo nella lingua Dell'ambiente in cui sono cresciuto Allora vedete Qui c'è un paradosso Anche qualche cosa che è assolutamente individuale Nel momento in cui lo traduco Perde ogni carattere di individualità Io posso raccontare a me un sogno Solo perché lo posso raccontare a qualcun altro E questa è la condizione Intanto posso raccontare a qualcuno un sogno In quanto qualcun altro lo può comprendere Quelli che dicono Quello che succede qua dentro Nessuno lo può capire Dicono una sciocchezza Tu stesso Lo puoi capire solo perché Stai utilizzando dei mezzi Che tu hai preso Dalla collettività di cui fai parte E che cosa vuol dire Andando fino in fondo In questo modo Facciamo un esempio ancora diverso Facciamo un esempio degli occhiali Immaginiamo che la traduzione sia io Questi occhiali che metto sul naso Per poter leggere Questi occhiali Chi me li ha dati questi occhiali? Questi occhiali E' uno degli strumenti che mi offre La società in cui vivo Allora io metto in forco gli occhiali E attraverso questi occhiali Vedo quello che c'è scritto in questo libro Ma io vedo quello che c'è scritto in questo libro Solo perché ho questi occhiali Chi mi ha dato questi occhiali? La comunità in cui vivo La società in cui vivo Mi ha fornito una serie di strumenti Fra cui questi occhiali E questi occhiali che cosa fanno? Rendono immediatamente intersoggettivo Quello che succede qua dentro Ma se lo rendono intersoggettivo Non è più privato Non è più assolutamente E' soltanto qualcosa che riguarda Questo corpo qui Questo vale E' quel punto Forse più difficile Cioè su cui è forse importante insistere Vale anche e soprattutto per me Che faccio questa operazione Qui dentro non c'è niente di nascosto agli altri Se io posso raccontarvi una cosa La posso raccontare anche a te Se non posso raccontarla a te Non posso raccontarla neanche a me La mente è radicalmente intersoggettiva C'è questo grande psicologo sovietico Che si chiamava Vygotsky Che a un certo punto dice Lo dice varie volte nelle sue opere Tutto quello che era una volta Interpsichico Interpsichico Diventerà intrapsichico Intrapsichico che vuol dire che qua dentro Sono all'opera dispositivi sociali Lui qui si rifà in particolare agli studi di Bakhtin Sulla mente dialogica Sulla mente intersoggettiva Al punto che Vygotsky chiama Con un'immagine bellissima Siccome da quello che si riesce a capire La caratteristica che qualifica il cervello Di un animale umano rispetto a molti altri animali E lo sviluppo abnorme dei lobby frontali Cioè di questa parte qua Questi li chiama Vygotsky I lobby storico-naturali Cioè i lobby che introiettano le relazioni sociali Si formano a partire dalle relazioni sociali Tipicamente Il più evidente strumento che viene introiettato È il linguaggio Per Vygotsky il tipico linguaggio umano È quello che lui chiama pensiero verbale Cioè un pensiero che è fatto di parole Ma le parole dove le prende il bambino Le prende nella comunità in cui vive Allora Attraverso Ritorniamo alla formula di Vygotsky Quello che era interpsichico Diventa intrapsichico Cioè la società entra qua dentro L'esterno entra qua dentro A quel punto Cosa vuol dire interno? Vuol dire uso individuale Di strumenti sociali L'individualità psichica È l'introiezione Della esteriorità sociale Vedete qui cosa L'operazione è Possiamo chiamare questa operazione Operazione di Umanizzazione Si diventa umani Attraverso questa operazione Di introiezione delle risorse sociali Quindi il bambino La bambina Imparerà a pensare se stessa A pensare A vivere la propria stessa emotività interiore A partire dagli strumenti Che la società gli dà Nemmeno gli dà così generosamente Gliel'infila dentro Si diventa umani Attraverso questa operazione Di interiorizzazione Delle relazioni sociali Cos'è che si perde In questa operazione? Si perde evidentemente Quello che rende ogni corpo Proprio quel corpo lì Diverso da qualunque altro corpo Il fatto che noi Pensiamo a noi stessi Attraverso strumenti Che sono gli strumenti di tutti Vuol dire che gli strumenti Uniformano il pensiero Che noi possiamo avere Di noi stessi E quindi ci pensiamo Nel modo in cui Il contesto Lo spazio sociale In cui ci muoviamo Ci insegna a pensarci Che cosa perdiamo? Perdiamo appunto Questo elemento Di radicale individualità Che ci contraddistingue Allora per questo Mi interessa L'intraducibile L'intraducibile sarebbe C'è qualche cosa Che resiste A questa operazione? C'è qualche cosa Che non viene Digerito Da questa operazione? Prima di leggere Wittgenstein Qual è la caratteristica Di questo elemento Di questo resto Intraducibile? Siccome è un resto Intraducibile Questo è il punto Per me è il punto decisivo Tutto il resto È secondario È un resto Intraducibile Intraducibile Per tutti Compresa la persona stessa Che ospita quel resto Non è qualcosa Che solo io posso capire Io per primo Non posso capirlo Direi di più Ciò che mi rende Ciò che sono È proprio L'incomprensione Radicale Di questo resto Io coincido Io in quanto Assoluta individualità Coincido con questo resto Non c'è nulla Che io possa utilizzare Perché Capite? Perché dice Coincido con questo resto Perché questo resto È prodotto Dalla stessa operazione Di interpretazione Quindi sempre di nuovo L'operazione Attraverso cui Cerco di dare ordine Al mondo psichico Istituisce Questo stesso resto Lo perde Lo perde Nel momento stesso In cui lo istituisce Allora Ora vi leggo Queste due Proposizioni Delle ricerche Filosofiche In cui Al modo di Wittgenstein Si affronta Questo problema Sono due proposizioni Celeberrime Molte volte commentate In cui Wittgenstein Analizza A suo modo Due operazioni L'operazione Attraverso cui Un bambino Impara A nominare Gli stati interni Ad esempio La sensazione di dolore Come fa Un bambino A imparare Ad associare La parola dolore A qualche cosa E poi Un'altra proposizione Che nega La possibilità Di un linguaggio privato Di un linguaggio Radicalmente privato Perché faccio L'esempio Di Wittgenstein Perché Diciamo Forse non è un caso Che lui abbia poi Bazzicato un po' Con la psicoanalisi In Wittgenstein Trovate radicalmente Questo pensiero E' forse Il primo filosofo Importante Del novecento Che ha tematizzato Questo scarto Questo resto Quindi dall'inizio Ha tematizzato Questo problema Allora Proposizione 244 Della prima parte Delle ricerche Filosofiche In qual modo Le parole Si riferiscono A sensazioni Problema Diciamo qual è il problema Il problema Immaginate Un bambino Come fa Un bambino A imparare A usare la parola Dolore No Semplificando Come fa un bambino A imparare la parola Dolore Diciamo E' facile Forse Molto Forse Insegnare a un bambino A dire Bottiglia Gli faccio vedere La bottiglia E quello dice Bottiglia Va bene Ma dolore Dove sta il dolore Non è visibile il dolore Non è un oggetto Che posso presentare Che posso ostendere Nello stesso modo In cui posso Presentare Una bottiglia Qual è il punto Che sta a cuore A Wittgenstein Come si Come nasce Tutto il lessico Diciamo Psichico Dolore Amore Sofferenza Piacere Tristezza Tutto Quell'insieme di parole Che si riferiscono A entità Non materialmente Presenti Come fa un bambino Continua Wittgenstein Qui sembra Che non ci sia Nessun problema Non ci capita Tutti i giorni Di parlare Di sensazioni E di nominarle Ma come viene istituita La connessione Fra il nome E il nominato La domanda Identica a quest'altra Come impara Un uomo Il significato Dei nomi Di sensazioni Per esempio Della parola Dolore Ecco qui Una possibilità Si collegano Certe parole Con l'espressione Originaria Naturale Della sensazione E si sostituiscono Ad essa Ad esempio Un bambino Si è fatto male E grida Gli adulti Li parlano E gli insegnano Esclamazioni E più tardi Proposizioni Insegnano al bambino Un nuovo comportamento Del dolore Prima di leggere La conclusione Di questa proposizione Vediamo come dice Wittgenstein Prima ipotesi Un bambino Entra qua Una bambina Inciampa Sbatte per terra Con il ginocchio Dice Ai Che possiamo dire Espressione naturale Di dolore E gli adulti Dicono Dolore Ai E' come se La parola dolore Sostituisse La parola Ai Gli insegnassi Un nuovo modo Di manifestare Uno stato interno Vediamo come Finisce questa proposizione Wittgenstein Tu dunque dici Che la parola dolore Significa propriamente Quel gridare Cioè Ai Al contrario L'espressione verbale Del dolore Sostituisce Non descrive Il dolore Cosa vuol dire? Vuol dire che il bambino Quando diventa capace Quando la bambina diventa capace Di dire dolore Non sta semplicemente Associando un sinonimo Diciamo Nella lingua italiana Dolore Al suono naturale E' entrato In un altro Direbbe Wittgenstein In un'altra forma Di vita Gli sto insegnando Che cosa Che cosa Gli stiamo insegnando Al bambino A cui abbiamo insegnato La parola dolore Stiamo insegnando Ad esempio Attraverso la parola dolore Che lui è qualcuno Che può ospitare Lo stato interno Dolore Lo stiamo scindendo In due In un certo senso C'è il bambino E c'è il dolore E la parola dolore Si riferisce A uno stato interno Ma lo stato interno Il presunto stato interno Viene istituito Dalla parola dolore Quando il bambino Dice Ai Non sta dicendo Non sta esprimendo Il suo dolore Ai è tutt'uno Con la sensazione Che sta provando Il bambino Che dice Ai Come se pensate La zampa a un gatto Il gatto che miagola Non sta esprimendo Il suo dolore Quel miagolio E' il dolore E' la forma Diciamo Acustica Del suo dolore Il dolore E il gatto Sono la stessa cosa Due modi Due facce Dello stesso fenomeno Nel momento in cui Invece insegniamo Al bambino La parola dolore Stiamo dicendo Al bambino Ci sei te E c'è il dolore E' la parola Che istituisce Qualche cosa Come il dolore Guardate Questo è particolarmente Evidente Se vedete Assistete Ad una visita medica Di un bambino Con un pediatra Se guardate Quello Prendiamo Il bambino Piange Il dottore Il pediatra Gli tocca la pancia E gli dice Fa male qui Che cosa sta facendo Il dottore Dicendo al bambino Fa male qui Gli sta dicendo Presta attenzione Alla tua pancia La tua pancia Contiene una cosa Che io chiamo Dolore Allora E' la parola Che istituisce Un pezzo Del corpo Di quel bambino Come corpo In quel caso Doloroso Altrimenti Il bambino E' tutto insieme E' tutto un unico Insieme Vitale Affettivo Emotivo La parola E' come se Ritagliasse Un pezzetto Di quel corpo Dice se vedi Questo pezzetto Certe volte Fa male Oppure pensate Quando insegniamo Ai bambini Si insegna ai bambini A nominare La faccia Come si chiama Questo Naso Come si chiamano Queste Orecchie E' la parola Che fa dire Al bambino Fa pensare Al bambino Che il tutto Del suo corpo Può essere Segmentato E articolato In pezzetti La parola Come dice qui Wittgenstein Non descrive Uno stato Preesistente Istituisce Quello stesso stato Istituisce anche In senso Se volete Giuridico Nel senso In cui Un atto giuridico Istituisce La cosa Che corrisponde A quello stato giuridico Allora Che cosa cambia Fra ai E dolore Cambia completamente La forma di vita Di quell'animale Che sta diventando Umano Quel bambino Attraverso la parola Dolore Entra in una diversa Condizione Diciamo Animale E a quel punto Gli stiamo insegnando Ancora una volta Strumenti sociali E tutto quello Che abbiamo detto prima Gli stiamo insegnando Che cosa Guarda C'è il corpo Il corpo è diviso In pezzi Ogni pezzo Può andare bene O andare male Ogni pezzo Ha un nome E tu a questo punto Puoi riferirti Ad ogni pezzo Con il suo nome Ma capisci Capite Il pezzo Esiste Perché c'è il nome Non è che il nome Si riferisce a un pezzo Che già c'era È il nome Che istituisce Quel pezzo In quanto pezzo Indicabile Fratto questa cosa Se ci fate caso Fate attenzione A come un bambino Impara ad esempio A nominare il corpo Una volta che entri In questo ordine Di idee Poi il bambino Comincia a dire E questo come si chiama E quest'altro come si chiama Cos'è che ha imparato Non tanto Ha imparato Che il corpo È composto di pezzi Ha imparato Che il corpo È scomponibile In pezzi Una volta che ha imparato Questo ti chiede Il nome dei vari pezzi È come se Avesse introiettato L'operazione Attraverso cui Lo organizzi Uno dei pezzi Di cui questo corpo È fatto È quello che si chiama Pezzo dentro In terzo L'interiorità È l'operazione stessa Della nominazione Che istituisce L'esistenza Dello stato interno Una volta che gli ha insegnato La parola dolore Il bambino Che cosa comprende? Ah c'è pure quest'altra cosa C'è anche il dolore C'è anche questa entità Altra proposizione Però qui Un ulteriore commento È utile Che cosa perde? Che cosa guadagna E che cosa perde Il bambino Con questa operazione Che abbiamo appena descritto Cosa guadagna? Beh guadagna Che diventa umano Con lui possiamo avere A che fare E sta con noi Ci parliamo Li chiediamo Ma dove ti fa male? Sei contento? Sei triste? Sei felice? Cosa vuoi fare? Questo vale per tutto Tutto il mondo psichico In quel modo si istituisce Pensate sempre Che la parola È il punto Da comprendere La parola Non è qualcosa Un'etichetta Che si applica Ad un oggetto preesistente La parola È un'operazione Che rende L'oggetto Nominabile È la parola Che rende Nominabile L'oggetto Non il contrario È il linguaggio Che rende Linguaggiabile Il mondo È il linguaggio Che istituisce Ciò che nomina È rovesciata La relazione Che cosa perde Il bambino? Beh perde Ad esempio L'unità Impensata Della sua vita Perde Il suo stare Al mondo Semplicemente In quanto Vivente Che sta al mondo Nel momento In cui Gli ha insegnato Che lui Ha dolore Capite? La stessa Ci pensate Anche grammaticalmente Evidente Dire che lui Ha dolore Vuol dire Che lui Non è il dolore Che lui E il dolore Sono separati L'operazione Attraverso cui Quel bambino Diventa umano È un'operazione Che produce Una separazione Produce La più fondamentale Di tutte le separazioni La separazione Fra quel bambino Che pensa Se stesso In quanto bambino E Virgolette Il suo Chiuso virgolette Corpo Istituisce Un dualismo In questo senso Abbiamo una parentesi Scherzosa Di storia Della filosofia Il dualismo Cartesiano È insuperabile Indipendentemente Da quello Che possiamo pensare Dal dualismo Il fatto stesso Che parliamo Testimonia Che siamo dualisti Parlare Vuol dire Che siamo staccati Dal mondo Parlare Vuol dire Non coincidiamo Con la vita Del mondo Io E il mondo Il fatto stesso Di parlare Istituisce Questa separatezza Allora Cosa guadagna Il bambino Diventa uno di noi È un bambino A quel punto Può andare dal dottore A una vita interiore Tra l'altro La prima cosa Che impara il bambino Ad esempio È che può mentire Se si istituisce Questa separazione Chiaramente Puoi anche pensare Di usare il linguaggio Indipendentemente Da quello che succede Fuori di te È il linguaggio Che crea la possibilità Della menzogna Ovviamente Che cosa perde Perde Quella pienezza di vita Che caratterizzava La vita di quel bambino Prima di questa operazione Al punto Che si potrebbe sostenere Con qualche argomento Che quel bambino Prima di essere Acchiappato Da questo dispositivo In un certo senso Non è umano È umano In quanto appartiene Alla specie Homo sapiens Sì certo Ai cromosomi umani Tuttavia vive In un modo non umano Perché qui abbiamo Soltanto considerato Le conseguenze psicologiche Di questa operazione Ma una volta Che tu istituisci Quel dualismo Qual è l'altro effetto Fondamentale Che metti in quel bambino E quel bambino Lo butti Nella temporalità Io ora E il bambino Che cosa facciamo Ai bambini Pensate alla domanda No La mamma Che chiede al bambino Che hai fatto oggi a scuola Cosa istituisce Quella domanda Istituisce la differenza Fra lui Che sta ora a casa E quello che è successo prima Quello che è successo prima Diventa qualcosa Di rappresentabile Di traducibile Nei termini Di questo ciclo Di incontri Nella misura in cui Il linguaggio Istituisce questa possibilità Se c'è una cosa Che colpisce Dei bambini È la loro strana Percezione del tempo Sempre e sempre Che stanno Dove stanno Ne hanno ricordi Se ci sono Sono ricordi Come possono essere Quelli di un gatto Ne hanno aspettativi Su quello che succederà Stanno lì Nella vita che vivono Come i gatti O come direbbe Dante Gli angeli Ma non sono ancora umani In questo senso Essere proiettato Nell'inniere Diciamo così Afferrato Dal dispositivo linguistico Ti butta dentro Una psiche Ti butta dentro Una separatezza Rispetto al mondo E ti butta dentro Anche il tempo L'esperienza del tempo In quanto Passato, presente e futuro Proposizione 258 Sempre della prima parte Delle ricerche filosofiche In cui Wittgenstein Discute della possibilità Di un linguaggio privato La discute per escluderla Vediamo prima Qual è la posta in gioco La posta in gioco Poniamo che potesse esistere Che un linguaggio privato Possa esistere Se potesse esistere Un linguaggio Veramente privato Dove privato Non vuol dire Segreto Qui Wittgenstein Non sta mettendo In discussione L'esistenza Di un linguaggio Segreto Ovviamente Pieno il mondo Di linguaggi segreti Sta dicendo Un linguaggio privato Nel senso radicale Un linguaggio Che nessuno Può comprendere A parte me Questo vuol dire Linguaggio privato Allora la domanda è Può esistere Un linguaggio Affatto privato Se potesse esistere Tutto quello che vi ho detto Prima sarebbe smentito Perché ci sarebbe Qualche cosa di noi Che sarebbe Del tutto indipendente Dalla relazione Sogli altri Vediamo come affronta il caso Immaginiamo questo caso Mi propongo Di tenere un diario In cui registrare Il ricorrere Di una determinata sensazione A tal fine Associo La sensazione Alla lettera S E tutti i giorni In cui provo La sensazione Scrivo questo segno In un calendario Possiamo proprio Immaginare Immaginare Abbiamo un calendario Mese per mese Giugno Ieri ho provato Una certa sensazione Dico Questa sensazione La voglio conservare E scrivo sul calendario S D'accordo? Sembra facile Io vedo quel calendario E non so E c'è sta S Che vuol dire? Io non capisco Quello che vuol dire Quella S Il punto è Ma chi ha tracciato Quella S Capisce che cosa è? Prima di tutto Voglio osservare Che non è possibile Formulare una definizione Di un segno Siffatto Perché? Perché non si può Formulare una definizione? Ora vediamo il punto Diciamo filosofico E metafisico Poniamo che invece Qui siamo d'accordo Noi Che Guardate Ci mettiamo d'accordo D'ora in poi Questo affare Lo chiamiamo Salvini Salvini Questo è Salvini Questa è una definizione Di Salvini D'accordo? Qual è la caratteristica Logica Di questa definizione? È una definizione Perché? È intersoggettiva Poniamo che domani Io torno qua Prendo questo affare E dico guarda qui Ho preso Zingaretti E lui mi dice No Ti sbagli Questo non è Zingaretti Questo è Salvini Il fatto che lui Mi abbia corretto Dice qualche cosa Di decisivo Per una definizione Una definizione Per essere una definizione Deve essere O giusta O sbagliata Per essere sbagliata Mi devo appellare A qualche regola La regola Ad esempio è Abbiamo deciso Che questo si chiama Invece Salvini Non si chiama Zingaretti Ora invece Qui ci sta dicendo Wittgenstein È un caso In cui Nessuno può dirmi Se la definizione È giusta O sbagliata Perché faccio Tutto da solo Quindi qui Prima obiezione Che fa Wittgenstein Prima di tutto Voglio osservare Che non è possibile Formulare una definizione Di un segno siffatto Ecco la contro obiezione Però posso darla A me stesso Come una specie Di definizione ostensiva Uno dice Ma vabbè Non lo posso spiegare Agli altri Ma io Io non mi sbaglio Ho deciso Che quella sensazione Si chiama S L'ho deciso Dentro di me D'accordo? Non l'ho detto a nessuno Sta tutto qua dentro Come? Chiede Wittgenstein Posso indicare La sensazione? La posso indicare A questa sensazione? Chiaramente No È uno stato interno Non posso indicarla E ricordate Che l'operazione Dell'indicare Invece È un'operazione Intersoggettiva Se io indico Questa bottiglia E abbiamo fatto Quell'operazione Per cui l'abbiamo Battezzata Salvini L'operazione Dell'indicazione È intersoggettiva Mentre invece L'indicazione interiore Non è intersoggettiva Per definizione E quindi Come va a finire Questa faccenda? Posso indicare La sensazione? No Almeno Non nel senso Ordinario Ma io parlo O scrivo il segno E così facendo Concentro La mia attenzione Sulla sensazione Come se la Additassi Interiormente Come se dicessi No? Qualcosa del genere È la S È il segno S Ma a che scopo Tutta questa cerimonia? Perché sembra Trattarsi solo Di una cerimonia Però una definizione Serve a fissare Il significato Di un segno Questo avviene Appunto Mediante Una concentrazione Dell'attenzione In questo modo Infatti Mi imprimo Nella mente La connessione Fra il segno E la sensazione Ma Ecco l'obiezione Di Wittgenstein Ma me lo imprimo In mente Può soltanto Vuol dire questo Questo procedimento Fa sì che in futuro Io ricordi Correttamente Questa connessione Ma che vuol dire Correttamente? Vuol dire che Seguo una regola Ma una regola Una regola privata È una regola Torniamo all'esempio Della bottiglia Questa regola Funziona Se funziona Perché è una regola Che non è privata Mentre invece Qui stiamo parlando Della possibilità Di una regola Assolutamente Privata Però nel nostro caso Nel caso Della regola interiore Della regola privata Non ho nessun criterio Di correttezza Qui si vorrebbe dire Corretto È ciò che mi apparirà Sempre tale E questo vuol dire Soltanto Che qui non si può parlare Di corretto Allora Che cosa fa qui Wittgenstein In realtà Una proposizione Che se conoscete un po' La letteratura Su Wittgenstein È stata mille volte Commentata E ripresa Una regola interiore Non è una regola Quindi io posso pure Fare questa manfrina Che mi invento Il segno S Per la sensazione S Facciamo Porniamo che io Stamattina Ho inventato Questo segno Domani mattina Dice Va bene Ho provato La stessa sensazione E riscrivo S Sul calendario Come faccio A essere sicuro Che non mi sto sbagliando A quale regola posso appellarmi Per essere sicuro Che sto usando correttamente Il segno S Se la regola è veramente privata Non c'è nessun modo Per essere sicuro Che sto usando correttamente Il linguaggio privato Ma questo vuol dire Che non è un linguaggio Questo vuol dire Che il linguaggio privato In linea di principio In quanto privato Non è possibile Allora Il modo che usa Wittgenstein È proprio per smentire Per mettere in discussione La possibilità Dell'esistenza Di qualcosa Di assolutamente privato Nel senso Di qualcosa A cui solo io Posso accedere E perché fa questa Considerazione Perché Wittgenstein Appunto È il filosofo Che forse meglio di altri Ha messo in evidenza La naturale E ineliminabile Socialità del linguaggio Quello che dicevo prima Con riferimento a Vygotsky I processi Interpsichici Diventano i processi Intrapsichici Possiamo farne una Parafrasi linguistica Il dialogo Fra le persone Diventa Il dialogo Interiore Ma prima Deve essere un dialogo Fra persone Per diventare un dialogo In petone Diciamo così Il dialogo platonico È la precondizione Del dialogo interiore Se non è quello Non è nemmeno quell'altro Arriviamo al punto E poi siamo Finito Sostanzialmente Allora Si dà qualche cosa Di intraducibile Torniamo alla domanda Da cui siamo partiti Intanto Perché è così importante Questo elemento Di intraducibilità Perché se c'è qualcosa Che ci rende diversi Gli uni dagli altri È proprio Questo intraducibile Ammesso che possa esistere È proprio Quell'elemento Che rende Uno di noi Diverso dagli altri La verità metafisica Di ciascuno di noi È in quel resto Tutto quello che rimane È dicibile Possiamo anche rovesciare La formula Il mondo umano È un mondo Per definizione Dicibile Mondo umano Vuol dire Non c'è niente Di indicibile Possiamo dire tutto Non c'è nulla Che non possa essere detto Perdiamo però Questo elemento Di radicale Assoluta Impossibilità Di essere Detto Siccome però La bambina diventa O la bambina Dell'esempio Della proposizione 244 Diventa capace Di parlare Solo a condizione Di sostituire L'espressione naturale Con la parola Dolore La bambina Vedete il paradosso Si può porre La questione Di un traducibile Solo se sei L'animale Della totale Traducibilità Solo l'animale Parlante Può porsi La questione Dell'intraducibile Ad esempio Facciamo l'esempio Di un albero Per un albero L'indicibile Non esiste Perché non può dire niente Non si pone Proprio la questione La natura Non è muta Nel senso Che non può dire La natura È al di qua Della possibilità Di dire qualche cosa E cos'è allora Questo resto Come si istituisce Questo resto Si istituisce Nell'operazione Attraverso la quale Cerco di dire Tutto quello Che c'è da dire Quali sono Le pratiche Umane Che Cercano di avere A che fare Con questo resto Ve ne elenco due Due possibili Primo La psicanalisi La psicanalisi Ha come obiettivo Proprio come obiettivo Quasi diciamo Deontologico Istituire L'indicibilità L'indicibilità Della persona Che va in analisi Si va in analisi Proprio per Imparare A produrre Questo resto E per non temerlo Non si va in analisi Per dire tutto Si va al contrario Per tollerare Questa Indicibilità Indicibilità Che viene istituita Dal fatto stesso Di dirlo L'obiettivo Dell'analisi Non è una completa Traduzione Del mondo Psichico Al contrario È istituire La sua Impossibilità Di dire tutto Seconda pratica Che La esemplifico Diciamo Con la pratica Artistica Però capite Nel modo in cui Ve la presento Si applica A tutti quelli Non soltanto Alla categoria Sociologica Degli artisti Cosa fa Diciamo L'artista L'artista Qualunque artista Non quello che fa le cose Qualunque forma di attività artistica Produce Qualche cosa Non in quanto Qualche cosa Che deve a sua volta Essere tradotto Interpretato Spiegato Commentato Produce qualche cosa Qualunque cosa sia Musica Una performance Una tela Una scultura Una posizione corporea In quell'operazione L'artista E' come se Precipitasse Nel resto Istituisse Quel resto E non chiedesse Nessuna spiegazione Di quell'operazione Niente più inutile Di spiegare l'arte Almeno se tu sei Attento Al fatto artistico Poi se ci sono Mille motivi Per cui è interessante Spiegare l'arte No? Sociologici Commerciali Finanziari Psicologici Possiamo fare tutto Un lavoro interessante Da quel punto di vista Ma non è il punto Dell'arte L'artista non vuole Produrre qualche cosa Che di nuovo Rientri Nel giro Delle spiegazioni Perché la traduzione Abbiamo detto Perde L'oggetto Che vuole tradurre L'artista Istituisce Il resto E non teme Quel resto E in fondo Cosa rende Significativo Un artista Proprio il fatto Che non ha niente Da dire Su quello Che istituisce Per quello Vediamo Che La strana Sensazione Quando si parla Con un artista Qui dentro È un luogo Particolarmente Semplificativo Da questo punto di vista Perché siamo sempre Così Tutto sommato Insoddisfatti Delle spiegazioni Che ci danno gli artisti Perché non è mai All'altezza Di quello che fanno È sempre Una spiegazione Pensate Gli artisti Che pensano Che quello Che loro fanno È una forma Di espressione Eh sì Va bene Ma Prendiamo Che fosse Se fosse Veramente Che Fosse veramente Il caso Che l'artista Esprime I suoi sentimenti A me Che me ne frega Degli artisti E dei sentimenti Degli artisti Perché dovrei essere Interessato Agli stati interni Dell'artista Perché dovrei essere Più interessato Ai tuoi sentimenti Rispetto a quelli Di chiunque Altro sulla terra Perché me ne dovrebbe Interessare Qualche cosa Del tuo bisogno Di esprimere Qualche cosa Non vedo niente Di interessante Da quel punto di vista Non è quello Che cerco Quando siamo Partecipiamo Ad un evento Artistico L'artista Istituisce Artificialmente Quel resto Con cui Vogliamo avere A che fare Ultima cosa Perché vi ho detto Questo A che fare Con l'artista Sicuramente Ma non soltanto Con l'artista In quanto artista Che appartiene Alla categoria Sociologica Degli artisti Chiunque di noi Si trova In questa situazione Cioè il problema Che l'artista Risolve Istituendo il resto Coincidendo Con il suo resto È un problema Che vale per ciascuno Di noi Tutti siamo Lavorati Da questo dispositivo In un certo senso La psicanalisi Di cui vi parlavo Prima È un modo Per avere A che fare Con questo resto E non temerlo In fondo Il resto fa paura Proprio perché Non chiede niente Non ha parole Silenzioso In un certo senso Il resto è una cosa Una cosa Che non chiede Nessuna Comprensione Una cosa Lì Come un gatto Come un animale Come un albero Come una nuvola Come qualche cosa Che sta lì Punto La cosa È totalmente Inumana E proprio perché Inumana Ci interessa Chiunque di noi È alle prese Con questo problema Continuamente Siamo alle prese Con questo problema E lo siamo Tutte le volte Che Che invece Cerchiamo di Venire A comprendere A spiegare A dare senso A quello che succede In questo senso È una specie Di tentazione Quella artistica Che vale per tutti Tutti Si trovano In un momento O nell'altro Alle prese Con questo resto L'artista Non lo teme Questo resto È come se Ci cascasse dentro Ci si butta dentro Precipita in questo resto E in questo precipitare Offre Alla nostra attenzione Questa possibilità Ma tutte le volte Che noi Ci offriamo Questa stessa possibilità Siamo artisti In senso Capite? Non in senso sociologico Ma in senso umano Siamo artisti Perché siamo Precipitati Nella pienezza In quel momento Quando siamo di nuovo Con quella A contatto Con quel resto È come se fossimo Per un istante Uno strano istante Perché è un istante Senza tempo Tornati come quel bambino Prima che gli insegnassimo La parola dolore Siamo diventati Come un albero Come un gatto Come una nuvola Siamo semplicemente Una cosa del mondo E vedete E questo è il punto E chiudo su questo Solo perché parto Dalla posizione Della traduzione Posso produrre L'intraducibile È la traduzione E ogni tentativo Di traduzione Che produce Il suo scacco Il suo fallimento Altrimenti Se io Il mondo In quanto mondo Non è che è intraducibile È al di qua Della traduzione È la traduzione Che Sempre E non può Non Di nuovo Istituire Il suo fallimento Il punto è Non temerlo E buttarcisi dentro In quel momento lì Ecco In quel momento lì Uno È di nuovo Come quel bambino E in un certo senso Smette di essere umano Se umano è Se umano vuol dire Traduzione Se umano vuol dire Dare un senso A quello che succede In quel momento In cui uno accetta Questa condizione Precipita Si lascia cadere In quella condizione Non è più umano È qualcos'altro Possiamo dire No Questo è il modo Per definirlo In quel momento È artistico La sua vita è artistica Non è un artista Il suo vivere è artistico Cioè il suo vivere è In piena aderenza All'esperienza Della vita Coincide con la vita Che sta conducendo Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti